Sono degli uccelletti davvero straordinari questi gruccioni, in grado di compiere delle migrazioni di oltre 15.000 chilometri. Nidificano lungo i corsi d'acqua dolce, scavando gallerie lunghe circa un metro. Sono molto ghiotti di api e di calabroni. Vengono chiamati lupi di api. Una volta che hanno catturato l'ape oppure il calabrone, la battono ripetutamente su una superficie dura, così facendo quasi sempre il pungiglione viene rimosso. Guardateli come danzano in questa breve clip video. Vengono chiamati lupi di calabroni.